e benvenuti in una nuova serie dedicata a City Skylines 2 nuova serie che parte già malissimo in quanto dopo 13 ore di registrato mi sono reso conto che OBS aveva registrato tutto quanto in gameplay laggando da morire per cui rinizio da capo la costruzione della città con l'esperienza delle 13 ore precedenti allora fatta questa piccola premessa iniziamo la costruzione primis visto che abbiamo un po' di esperienza facciamo qui tutta quanta pianura più grande si può avere? ok riduciamo la grandezza ok fatto questo andiamo a costruire il rettilineo d'ingresso nella città fatto questo direi di fare e fare qui la zona abitata e qui invece andiamo a fare la zona industriale perché il vento se ricordo bene qua dov'è? eccolo qua il vento spinge per di qua per cui qui la zona industriale cade a fagiolo eeehm 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 io mi expectation eeehm eeehm ma ok qui facciamo dei riquadri anzi dei rettangoli la struttura della città a 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 e a 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 ma a 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 pisco sti spazi maledetti a 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 residenti 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 residenziale zona residenziale qui facciamo qualche zona commerciale qui invece la zona industriale ci serve questo per convertire la corrente in energia elettrica usabile in città e poi dobbiamo mettere una stazione una stazione di pompaggio dell'acqua e lo scarico perfetto perfetto a 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 altra zona presidenziale possiamo eliminare qui facciamo primo obiettivo sbloccato borgo minuscolo e villa della rockstar ok facciamo questo questo e qui facciamo un collegamento a questo rotto di quartiere così rotonda 1 rotonda 2 per quanto lo spiacchiamo qua 1 2 3 4 5 6 no in realtà mi chiede zona media densità quindi qua facciamo media densità e ho anche un po' di zone industriali come richiesta ok non ci sono disoccupati abbiamo solo bisogno di popolazione clinica medica la collochiamo qui la discarica non la mettiamo questa volta perché è solo un accumulo di spazzatura e non riesco mai a sfoltirla vediamo se se la prendono dall'esterno un po' di zone commerciali ok ehm rotonda e servizi allora come prima cosa sblocchiamo nulla attendiamo ancora non sblocchiamo niente ma perché perché stiamo a dire sta cosa facciamo così ehm facciamo l'ingresso qui lo facciamo qua rotonda e chiudiamo qui ecco facciamo l'ingresso c'è un altro blocco ci servono residenti però qua si sta costruendo tranquillamente e la chiusura io la farei a questa altezza qui per cui per cui è la chiusura la chiusura che la chiusura è la chiusura ok ehm così lo eliminiamo qui facciamo questo questo ed eliminiamo pure questa zona qui qui 2 3 1 qui 1 qui 1 qui 1 e abbiamo sempre disoccupati qui questo e facciamo ok borgo piccolo piace così no ho sbagliato qui ma lo facciamo qua qua 6 2 3 4 5 e 6 sostituiamo questi con le palazzine più grandi oh abbiamo le scuole ne mettiamo una qui questo è la scuola media e questo 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 mettiamo così tutto questo spazio perché lei ha questo campo qui che occupa leggerissimamente spazio quindi possiamo fare questo qui questo lo possiamo abbattere e qua facciamo ancora 1 2 3 4 5 6 opposto serve popolazione serve popolazione college lo sbocchiamo subito college lo sbocchiamo subito tutto che college lo piazziamo qui obiettivo 3 e si vola e si vola dobbiamo mettere questa la pensiamo qui polizia la piazziamo alle sue spalle ci va che dobbiamo piazzare clinica e non ci va qui la piazziamo qui oltre alla clinica abbiamo il cimitero cimitero che andiamo a piazzare un attimo aia così perfetto allora qui disoccupati non ne abbiamo ah c'è bisogno di persone e due tre quattro cinque sei ok questa cosa la facciamo da questo lato ed eliminiamo tutti questi qui piazziamo questi un po' di considera installi un toile piacere sull'acqua piacere sull'acqua e solle con un amico quando è possibile questo è stato un'annunzione pubblica pubblica Grazie a tutti. E la densità ne costruiamo qui 5 e 6. E ne costruiamo un altro dall'altro lato. Perfetto. College ci siamo, media al superiore, le scuole elementari e andiamo a piazzare anche un parco giochi. E cos'è questo? L'infermedia? Non ci ho, mi dispiace. Ok. Disoccupati non ne abbiamo, perché va sempre bene. 5 e 6 e facciamo anche subito dall'altro lato. Perfetto. Fattorie con animali. Fattorie specificate in avvento di pisane possono produrre bestiame ovunque, quindi non mi interessa. Pietra, era lontana da pietra, sì. Quindi niente, però. 5 punti. 5 punti. No, 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 non voglio fare nulla. Facciamo anche qui. Perfetto. Questo va qui. Quindi va alle spalle, comunque. Proprio costruirci. Preciso, preciso. Questo si costruisce là, questo si costruisce là. Perfetto, io qui ci posso costruire tranquillamente. Negativo, ma come ho già visto nelle mie precedenti città, il negativo non è un grosso problema. Per esempio, popolazione, facciamo questo, 4, 5 e 6. Sì, anche dall'altro lato. Luit Geloni. Dovrebbe essere qui. Allora, c'è una casa. La villa della Rockstar. La piazziamo qua. Vicino al mare. E poi... Fit Geloni. D'identitore dell'atmosfera. Questo edificio tranquillo e lussuoso. E' lussuoso lo piazziamo qui. Obiettivo 4, sbloccato pure. Perfetto. E abbiamo gli uffici. E' una minima richiesta di zona residenziale ad alta densità. Ok, facciamo così. Questo video introduttivo lo chiudo già qui. Salvo. Spero che adesso il gioco non laghi più con OBS. Con la registrazione che fa OBS. Per cui spero che ci si possa vedere a un prossimo video. Incrociamo le dita. Per cui spero che ci si possa vedere a un prossimo video.